ok visto che non pubblico più un video da tutte settimane ho trovato una nuova postazione per le action figure allora qua ci sono quelle showa tranne un gozi tranne una gaigan di final wars perché non sapevo dove cavolo metterlo lì ci sono le eisei possiamo vedere godzilla king idora e dietro un fire rodan selvaggio sotto ci sono le leggendari ovvero c2014 motra e rodan che ho ritrovato la zampetta sperduta di motra e infine qua ci sono i tre dell'ave maria ovvero gamera godzilla e ultraman qua sotto poi dovrà metterci una scatola con dentro tutte le action figure quelle non belle da vedere come il mio king kong del 2005 zilla e soprattutto quello scempio di tino tank video finito bacio abbraccio ciao